Vi proponiamo un arrangiamento che ci ha regalato un caro amico, che è qui peraltro stasera, che è Mario Raia, che è suonato ieri sera qui. Un applauso per Mario. L'arrangiamento gliel'abbiamo un po' cambiato, ma sono convinto che non se la prenderà. La composizione è di John Coltrane, un grande sassofonista, che ha scritto questo brano che si chiama Dakar, solo che nel frattempo in questi anni Dakar è diventata molto più trafficata di una volta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.